In questo video parliamo degli inganni principali delle case discografiche e come si sono sviluppati nel tempo. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ah, come erano belli gli anni 90! C'era la lira, i dischi si vendevano, i locali pagavano, era tutto più bello. Sì, vero, ma solo in parte perché, seppur vero che giravano molti più soldi intorno alla musica, ci sono tante storie che finiscono per non essere raccontate. Perché è sempre bello quando qualcuno riesce ad ottenere un grande successo e magari a vendere tanto con un disco e cambiare la macchina, la casa e quant'altro. Però ci sono tanti che invece hanno subito delle fregature e delle delusioni coscienti e magari non le raccontano. In questo video faccio una breve carrellata di quelle che sono le principali fregature che si possono subire nei confronti di una casa discografica e soprattutto, al di là del racconto storico, ciò che può succedere ancora oggi e di cui è bene stare piuttosto attenti. Può sembrare un miraggio a chi si avvicina oggi al mondo della musica, ma c'è stato un tempo in cui i dischi venivano pagati in anticipo. In sostanza la casa discografica si assicurava a te come autore, produttore o remixer e ti pagava prima una parte del compenso stabilito per un disco, oppure stabiliva il prezzo di un tuo remix e la prima parte di quei soldi ti arrivava al momento dell'accordo. Ah, che bellezza! Pensare che oggi si fanno dischi per pochi spiccioli. In realtà c'è un particolare molto curioso di cui sarebbe bene stare attenti, perché questo aspetto è rimasto ancora oggi nei contratti discografici. Cosa significano questi soldi pagati in anticipo? Per ogni disco venduto c'è una percentuale che è molto importante che rimane alla casa discografica e una percentuale più piccola che va al produttore. E si parla all'incirca di un quarto al produttore e il 75 per cento rimane alla casa discografica. Però se la casa discografica ti ha anticipato dei soldi, ecco che se li riprende da quel tuo 25 per cento. Molto spesso era così che funzionava e che significa che prima di vedere dei soldi tuoi per davvero devi vendere una grande quantità di dischi e non sempre succedeva. Anzi, era minima la possibilità che quei dischi veramente riuscissero a superare la soglia. E allora succedeva e quei soldi in qualche modo li dovevi restituire. E sì, e non era sempre così facile, bello e interessante. Perché tutto questo? Perché la casa discografica si accolla degli investimenti importanti per la pubblicazione di un disco. La realizzazione, quindi pagava lo studio, la distribuzione e quindi portare il disco in tutte le parti del mondo potenzialmente. E poi le spese di promozione. E queste spese dovevano ritornare unicamente dalla vendita di questi dischi oppure dagli accordi commerciali per il brano che passa per esempio in televisione, radio e quant'altro. La casa discografica in qualche modo ti anticipa dei soldi che però bisogna fare conto che non sono tuoi. Perché fino a che la casa discografica non ha recuperato quei soldi ancora tu non guadagni niente. Questo può essere stabilito in un numero di cd, dischi, download e quant'altro che però è scritto nel contratto che per i primi x copie ascolti del tuo brano, quei soldi rimangono a coprire le spese sostenute dalla casa discografica. Erano belli gli studi con le macchine analogiche degli anni 90, il problema è che tutto costava molto. Costruire uno studio e metterlo in piedi aveva dei costi enormi, si parlava di milioni di lire e anche costava molto di più un musicista, un tecnico. In sostanza i dischi per farli costava veramente tanti soldi. Non era insolito sentirsi chiedere tre milioni e mezzo per un disco, l'equivalente di oggi di 5.000 euro. Però pagare questa cifra non assicurava che poi quel disco effettivamente uscisse. Quindi in sostanza potevi pagare una cifra per un disco che non veniva neanche pubblicato e se un disco non viene pubblicato è molto improbabile riuscire a recuperare dei soldi. Questo perché la casa discografica ti metteva in conto le spese per realizzare proprio il disco perché effettivamente costava, poi però il disco doveva essere in qualche modo piazzato e poteva succedere che nessuno fosse interessato a quel disco una volta realizzato, però il prezzo lo dovevi pagare lo stesso. Poi c'era anche chi se ne approfittava di questo, che intanto si faceva pagare il disco e poi faceva passare il tempo, non sentiva più nessuno, se ne dimenticava e un altro problema che avveniva in passato con i tempi molto più dilatati è che le cose scorrevano fino a quando, come dire, diventavano vecchie o comunque nessuno se ne occupava più e si perdeva il treno. E allora poteva succedere che qualcuno pagasse delle cifre anche importanti per non ritrovarsi niente, se non un disco da poter sentire soltanto in casa propria. Come evitare questo? Anche in quel caso bisognava essere molto attenti agli accordi che si stringevano fin da subito. Cercare sì qualcuno ti realizza il disco ma anche subito capire dove potesse essere piazzato perché altrimenti rischiavi che qualcuno si prendesse i tuoi soldi per pagarci le proprie bollette. Adesso siamo molto più informati, c'è anche YouTube dove si possono scoprire le cose. Prima era tutto un grande far west e non necessariamente le persone che realizzavano un disco erano al corrente di ciò che significavano i diritti d'autore. E allora che succedeva? Per esempio ci sono degli studi nel quale si realizzano i dischi, uno arriva lì con una bella idea, la porta in fondo insieme magari a un tecnico e poi il disco se lo segna qualcun altro. Oppure magari ci sono dei nomi importanti, prima tutti i DJ di un certo nome avevano uno studio proprio e magari dei dipendenti messi lì fissi a lavorare a fare dischi per sé e per altri che pagavano. Ecco che succedeva che qualche disco che potesse funzionare magari gli davano un nome X, che ne so, mettiamo e qualcuno si inventa la Polka Tecno, allora io mi invento il nome DJ Polka Tecno, che faccio fare un disco, il mio tecnico mi dice metti insieme la Polka e la Tecno in qualcosa e posso essere virale, si direbbe oggi, per un'estate, però il disco me lo segno io, me lo registro io alla SIAE, che non voglio che sia associato al mio nome, però se un giorno quel disco funziona ci prende soldi a venire. E questo lo possiamo riscontrare oggi, quando vedi dei personaggi improbabili che inseriscono nel proprio canale YouTube dei dischi che eri abituato a sentire in un completamente altro contesto o associate ad altri nomi. Ecco perché oggi che anche lo streaming si fa per pochi spiccioli e non conviene disperdere attraverso canali che non hanno minimo pubblico, però trovi dei dischi del passato associati al loro reale autore, che non è chi l'ha fatti ma chi se li ha segnati, con buona pace di chi li ha realizzati davvero. Una cosa da tenere molto bene in considerazione è che quando pubblichi un disco anche poi il brano deve essere depositato, seppur in una parte perché comunque ci sono tutti i diritti da spartire e lo vedremo meglio in un video specifico, però se il disco lo fai te è giusto che ti sia riconosciuta una parte dei diritti d'autore, ma deve essere tu attento a verificare in fase di registrazione del disco. La gavetta infinita, ci sono decine di dj di un certo tipo, questa cosa anzi più forse da chi lavora in radio che è costretto a fare tante cose diverse dai dischi, mixate e quant'altro, che hanno orde di ragazzini che lavorano per loro con l'idea un giorno di poter arrivare loro stessi ad avere un nome. Il problema in questi casi è che ci sono una macchina continua di fabbricazione di contenuti, prodotti, dischi e quant'altro e una domanda enorme di persone disposte a farlo anche gratis. E allora succede che si hanno periodi infiniti nel quale vengono promessi soldi, successo e quant'altro, però nel frattempo il nome dietro al quale si racchiude questa squadra così continua a beneficiare di tutto, dei soldi, delle serate, del programma e così via. Anche per esempio delle voci si utilizzano per un disco, nascono continuamente nuovi cantanti che poi fanno uno o due brani con quel DJ del momento e dopo spariscono, perché non riescono poi a crearsi un nome per conto loro ma sono sempre inserite in un contesto in cui nessuno poi cresce veramente. Allora in questi casi cosa significa? Non è bene produrre per qualcun altro? Assolutamente no! Può essere molto stimolante, puoi vedere dei contesti interessanti, puoi imparare veramente a lavorare ma è opportuno tu faccia crescere anche il tuo di nome in maniera parallela per farlo sviluppare poi con le proprie gambe e per farlo poi veramente crescere e realizzare in qualche modo, magari in un contesto meno stimolante ma potenzialmente nel quale puoi raccogliere qualcosa davvero. A cosa serve questo video? Ho messo insieme a un po' dei più comuni inganni legati al mondo delle case discografiche che, attenzione, non sono da considerare come il mostro cattivo. Non ho parlato delle major perché tanti se ne tengono a distanza così per partito preso. In realtà le case discografiche hanno una ragione di fondo per comportarsi così che è la spietatezza del mercato. C'è un dato soltanto che se negli anni 90 che pure i dischi si vendevano in realtà soltanto il 10 per cento dei dischi riusciva a ripagare gli importanti costi di produzione e magari tra quelli anche guadagnare qualcosa. Il 90 per cento dei dischi venivano messi sul mercato e non funzionavano o quantomeno non funzionavano abbastanza. Di conseguenza le case discografiche per poter guadagnare avevano bisogno di prendere tantissimo da quei pochi dischi che funzionavano. E adesso la situazione è ancora peggiore. Si parla del 5 per cento di dischi che funzionano a fronte di un 95 per cento dei brani che vengono immessi sul mercato ed in pochissimi ascoltano. Bisogna anche considerare questo aspetto. Se il brano in cui tu hai messo grandi sforzi nel momento in cui viene pubblicato non ha un successo fin da subito allora molto probabilmente può essere interessante solo per te e non per tutti gli altri. La casa discografica che è un'azienda vera e propria deve tutelarsi e deve tutelare il proprio interesse economico. Ora, questo non giustifica che ci siano accordi poco chiari, che si cerchi di fregare il prossimo, che si cerchi di spillare dei soldi rubando i sogni da chi vorrebbe fare un certo tipo di vita, un certo tipo di carriera. Però tutto questo è rimasto ancora oggi con altre modalità ma con gli stessi meccanismi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi qui su Essere DJ Oggi. Grazie a tutti.